Buongiorno a tutti, oggi 4 novembre ho deciso di, come vi ho annunciato ieri del resto, di parlarvi di Armando Diaz, ma vi parlo di Armando Diaz all'interno di una lettura tratta dal periodico che vi ho già presentato ieri, eccolo qua, Esercito e Nazione, rivista per l'ufficiale italiano in servizio attivo e di complemento. Un periodico propagandistico edito dal Ministero della Guerra che ha avuto la sua evoluzione all'interno ovviamente delle necessità del regime di affermare un certo discorso, ma colgo l'occasione perché dai meandri della mia ex ormai collezione è uscito fuori questo elmetto modello 1915 perché ha i ex francesi, ha le parti otturate, verniciato ovviamente di verde, con una realtà piuttosto drammatica, fuori di entrata, fuori di uscita, questo è un pezzo molto drammatico sotto tanti punti di vista, mi sembrava interessante farvelo vedere oggi, 4 novembre, che ci dà anche un senso del movimento cruento della guerra, centinaia di migliaia di morti per una guerra che appunto poi ha portato una serie di conseguenze, tra l'altro appunto come abbiamo visto ieri un certo clima anche politico tale da arrivare poi al 1922 e questo l'avevamo già affrontato proprio ieri. Detto questo leggiamo questo articolo, questo lungo articolo che non mi pare sia firmato, ah no no scusate, Alberto Baldini, questo scritto forma il capitolo settimo del volume Diaz che l'editore G. Barbera di Firenze pone in vendita nell'occasione del decimo annuale della vittoria, quindi diciamo che una sua collocazione anche editoriale. L'articolo ha per titolo Armando Diaz fra le due battaglie del Piave e di Vittorio Veneto. Qualora il piano dei due imperatori fosse riuscito e l'Italia fosse stata messa fuori causa con l'offensiva austriaca del giugno 1918, gli eserciti della coalizione antigermanica combattenti in Francia si sarebbero venuti a trovare di fronte a un dilemma di impressionante gravità. O lasciare che le armate austriache, forse anche rinforzate da quelle germaniche, facessero della pianura padana la loro base per operazioni da condurre contro la Francia medionale, attraverso le Alpi e per la Via del Mare, oppure tamponare la larghissima falla col pronto a correre in Italia di armate che avrebbero dovuto essere sottratte dallo scacchiere settentrionale. Nemmeno fosca risituazione si sarebbe determinata se l'esercito austriaco fosse andato a rinforzare direttamente l'esercito germanico nella Francia settentrionale. Insomma, la grave crisi in cui era venuta a trovarsi la coalizione per effetto dell'attacco austriaco del giugno, implicitamente riconosciuta dagli alleati nel loro impeto di esultanza per lo scampato pericolo, era una conferma luminosa, seppure indiretta, della importante funzione che lo scacchiere italiano esercitava nell'economia generale della durissima lotta. E questo è interessante perché ci pone anche un accento nel fronte italiano che di massima veniva un po' così poco valorizzato dagli alleati occidentali ed era salito agli onori della cronaca solo dopo Caporetto, così giusto per gradire. Del che erano pienamente consci anche gli imperi centrali, in quello che opportunamente affermare un principio di solidarietà si chiamò il fronte unico alleato dal mare del nord al golfo di Trieste. La pianura veneto-friulana, per la sua situazione geografica, veniva infatti a rappresentare una zona avanzata pericolosa a minaccia dell'ala sinistra dello schieramento teutonico. Tale posizione avrebbe potuto suggerire all'intesa una manovra d'ala, in analogia a quanto spesso fu predicato prima del 1914 nella strategia e nella tattica delle guerre a fronti limitati. Ed era questa una delle molte ragioni che spingevano gli austro-germanici ad assicurarsi il possesso della valle del Po. Le battaglie di Caporetto e del Piave furono disperati tentativi di giungere a quella meta. Fortunatamente per l'intesa la prima fu soltanto un mezzo successo strategico, la seconda un fallimento. In sostanza, lo scacchiere italiano, per i suoi rapporti di spazio con le altre fronti di battaglia, veniva a trovarsi in una zona di dinamismo per una fatalità che non era in potere degli uomini di modificare e che conveniva ad entrambi i contendenti di piegare al proprio disegno. Con poche giornate di marcia si poteva dal friuli entrare nel cuore della monarchia degli di Asburgo e minacciare Vienna o altri punti vitali. Questo era un po' il programma di Catorne. Una simile puntata avrebbe ferito profondamente gli imperi centrali per ciò che rappresentava di danni immediati e di poricoli conseguenti e la Germania, impegnata nel nord della Francia, sarebbe stata costretta a volgersi indietro con gran parte delle forze per puntellare l'alleata e coprire le spalle proprie quando non avesse creduto di abbandonare senz'altro la lotta. Questo è quello che accadrà novembre 18. Un simile progetto ora già stato abbozzato dal Catorne prima di Caporetto, ma la stoccata nel quale dell'Austria avrebbe potuto essere vibrata soltanto se si fosse costituita in Italia una potente massa di manovra che per quantità di uomini e di mezzi fosse risultata decisamente superiore all'esercito austriaco. Sì da potere sicuramente e prontamente aprirsi da prima la strada verso l'interno del paese nemico e la conca di Rubiana era per questo primo tempo il naturale obiettivo. e alimentare poi gli sforzi successivi. Certamente il costituire codesta massa di manovra al nord della Francia non era ascevro di rischi perché la linea di contatto fra gli avversari, considerata nel suo completo sviluppo, descriveva un arco convesso dalla nostra parte, conseguendo da ciò che gli spostamenti franco-inglesi verso l'Italia, i quali per la grande massa da mettere in movimento non avrebbero potuto sfuggire al vigile servizio esplorativo ed informativo dello Stato Maggiore tedesco, sarebbero stati con tutta probabilità neutralizzati da analoghi ma più rapidi spostamenti di truppe germaniche verso il Trentino e la zona Giulia. Ma la guerra non si combatte senza rischi e il rischio ora accennato era fondamentalmente insito nella posizione centrale degli esercii germanico-austriaco rispetto alla posizione esterna delle forze dell'intesa e incombeva su tutti i grandi disegni operativi avessero essi carattere offensivo o difensivo. Comunque, quando entrò in linea l'esercito americano, immensa riserva fresca che veniva a rendere nuovamente possibili le azioni aggressive dell'intesa, allora il grande progetto di offensiva per l'annentamento dell'Austria si presentò non più soltanto sotto l'aspetto della convenienza, ma anche sotto quello di una meno laboriosa e meno rischiosa esecuzione. Tanto più che dopo la battaglia del giugno, dalla quale erano uscite indubbiamente scosse dell'armata di Carlo I, era anche da presumere che la grande marcia verso il quale della monarchia danubiana avrebbe potuto attuarsi con forze minori rispetto a quelle previste in piani precedentemente formulati. Questo è determinato dal fatto che se nel periodo precedente gli austriaci o gli austro-teddeschi erano più solidi sotto l'aspetto del morale ma anche delle forze, nel 1918 sicuramente le truppe, soprattutto austriiche, avevano risentito molto per proprio conto sia dell'avanzata verso il Piave ma anche degli insuccessi che c'erano stati sul Piave. Quindi questo era un elemento che portava ad indebolire, ovviamente l'Italia aveva avuto una certa scossa, l'arretramento da Lisonza al Piave non era stato indolore, anzi Cadorna era stato sostituito da Diaz tanto per menemunimento a livello generale, però questo ci portava anche la necessità di meglio valutare lo stato di salute degli eserciti degli imperi centrali. Per contro, un'offensiva condotta con le sole nostre forze non aveva altra probabilità in caso di favorevole risultato all'infuori di quella di fare arretrare in alcuni chilometri ed addentrare di più nella zona montana le armate nemiche che ci fronteggiavano. Risultato al quale Diaz, con visione veramente alta degli interessi generali e particolari, non annetteva tale valore che compensasse il locuramento di uno strumento che gli voleva riservare a compiti più risolutivi. Solo nel caso di una contemporanea offensiva franco-britannica nello scacchiere nord-occidentale, una mossa analoga all'esercito italiano poteva, secondo Diaz, avere scopo pratico e tornare utile moralmente e materialmente. Qui entra un po' anche il discorso che Diaz ha indugiato parecchio prima dell'attacco di fine ottobre, quindi nonostante fosse stato incalzato reiteratamente, soprattutto dal governo in tal senso, ma anche dagli alleati. D'altra parte, Diaz, che aveva fra i suoi doveri quello di prospettarsi tutte le eventualità anche meno favorevoli, non poteva escludere a priori che, perdurando in Francia la sosta del resto ben spiegabile dopo le battaglie della Primavera e dell'estate, seguita all'arresto dell'offensiva tedesca, non affiorasse nuovamente nel campo degli impari centrali il progetto di abbattere l'Italia con un'offensiva combinata austro-germanica contro la quale ci saremmo trovati notevolmente inferiori in forza e nella impossibilità di ricevere tempestivi aiuti per le ragioni strategico-geografiche già accennate, un periodo molto articolato ma che sostanzialmente dice, Diaz vuole giocare sul sicuro, vuole evitare di essersi, di indebolirsi ancora di più nel momento in cui magari proprio gli impari centrali volessero riprovare un attacco contro l'Italia. Sicché il generalissimo italiano doveva segnalare a sua volta i pericoli cui poteva essere esposta l'intesa per effetto dell'isolamento militare dell'Italia e concludeva anche per questa via con la convenienza, per non dire necessaria, che una notevole parte dei rinforzi americani venisse dislocata dal nostro paese. E anche questo è un momento importante. Va notato che questi scambi di idee e questo diverso modo di valutare la situazione non avevano nulla che potesse interpretarsi come dissenso nelle finalità o come un intiepidirsi dei calorosi sentimenti che legavano i paesi dell'intesa ed associati, uniti ormai dai loro più vitali interessi in una sola volontà di lotta fino al comune triunfo. Ma le altre personalità che era commessa una si grande somma di gravi compiti dovevano a sé e agli altri di dir chiaro il loro pensiero e di valiare il pro e il contro delle diversi possibili soluzioni. Verso la metà di agosto Diaz aveva annunciato a Foch che un attacco nostro sull'altipiano di Asiago e sul Grappa con l'impiego di 26 divisioni era in avanzata preparazione ma che occorreva con una precedenza di circa 20 giorni i materiali chiesti agli allalati con note precedenti. Inoltre il nostro supremo comandante fatto il computo del rendimento delle classi del 1900 presso di noi e presso l'esercito nostro-ungarico e tenuto conto della prossima restituzione dei prigionieri austriaci in Russia, la Russia è uscita fuori dalla guerra, accennava le condizioni di inferiorità in cui si saremmo venuti a trovare dopo la battaglia implicitamente richiedeva una promessa di rinforzi alleati. Di questi elementi di fatto occorre tener giusto conto nella valutazione delle conseguenze delle operazioni che si svilupperanno sul teatro di guerra italiano non soltanto per il loro effetto immediato ma anche specialmente per la loro ripercussione sull'economia generale delle forze alleate. Io avrei torto se intraprendessi un'operazione offensiva che impegna metà dell'esercito senza essermi assicurato preventivamente i mezzi necessari per sfruttare i probabili risultati. Finisce il virgolettato. Io non è la prima volta che lo dico, ma Diaz assomiglia molto o meglio, Montgomery assomiglia molto a Diaz, anche perché nell'analisi delle tre battaglie di Rala Main, luglio, primi settembre, fine agosto, fine settembre e poi fine ottobre, io trovo un elemento di comparazione rispetto alle tre battaglie del Piave, quella di fine fine diciassette, quella di giugno, la battaglie del sostizio e poi quella di ottobre del 18. Quindi ho trovato, avevo espresso questa mia opinione che Diaz e Montgomery mi sembravano molto simili paragonando appunto le attività del Piave con quelle di Rala Main. Alla fine di agosto Diaz erasi recato in Francia e aveva visitato il Presidente della Repubblica, il capo del governo e il generalissimo dello scacchiere francese. Mentre il Presidente del Consiglio si era limitato ad accennare alla desiderata offensiva degli italiani in termini generici e con discrete allusioni, il signor Poincaré si era in modo particolare soffermato sull'argomento mostrando di voler conoscere a fondo e di voler discutere le obiezioni strategiche cui l'operazione votava dal luogo. Aveva seguito un colloquio assai interessante fra Diaz e il maresciallo Foch presso il gran quartier generale franco-inglese. Il maresciallo fece al nostro supremo comandante un'accoglienza che Diaz definì particolarmente cortiale. I due eminenti condottieri discorsero a lungo amicovolmente sui vari argomenti che si riferivano alla prossima strategia della guerra e la conversazione ebbe carattere di reciproco orientamento. Ho rappresentato al maresciallo, così scrive la Diaz al capo del governo, che data la necessità di essere pronti ad operare a fondo per il venturo anno, non posso spingere l'operazione dell'anno in corso fino a un punto da compromettere l'efficienza del nostro esercito e ciò, tanto più dopo la dichiarazione da lui fattami, che non è possibile in quest'anno l'invio di forze alleate in Italia. Quindi si prospetta addirittura il 19. Ritengo mio debito soggiungere essere le mie impressioni che effettivamente la presente situazione su questa fronte non considerebbe tale invio. Comunque, dinanzi a tale impossibilità e tenuto conto delle mie argomentazioni, il maresciallo, pur riaffermando il suo concetto di una generica opportunità di attaccare al più presto la fronte italiana, ammise la convenienza che il nostro esercito assuma per ora contegno aggressivo, tenendosi pronto a sfruttare la situazione che si presentasse propizia. Finisce il virgolettato. Queste parole davano pienamente la sensazione dell'accordo intervenuto e delle reciproche cordialità, delle cordiali ammissioni e delle difficoltà particolari a ciascuna fronte. E il Diaz sottolineava con evidente compiacimento virgolette. Ciò corrisponde in pratica a una larga libertà di azione lasciata al Comando Supremo italiano e in sostanza il maresciallo Foch sembra rendersi perfettamente conto della nostra situazione che considera con larghezza di vedute, ciò che faciliterà l'intesa di futuro. Finisce il virgolettato. Fra gli argomenti che si adducevano nei nostri alleati per spingere l'Italia a un'offensiva isolata, vi erano quello dell'indebolimento dell'esercito austriaco per effetto dei contrasti interni fra le diverse nazionalità dell'impero, non cosa da poco, e si citava particolarmente come esempio il fervore di tutti gli slavi del sud, al di qua e al di là del confine della monarchia danubiana, per costituire un solo Stato. In questo ordine di idee Diaz aveva non solo quel tanto di scetticismo che ripeteva dalla intelligente disamina di fatti politico-militari lontani e recenti, ma era altresì in possesso di notizie in contrasto con l'ottimismo di chi, meno direttamente interessato, giungeva fino a figurarsi l'esercito di Carlo I in condizioni di avanzata putrefazione. Nelle storie del 18 erano in Italia, in gran numero, prigionieri da noi fatti all'esercito austro-ungarico, appartenenti a nazionalità della futura Jugoslavia. Essi erano impiegati in lavori dell'interno del paese, i loro discorsi e il tono generale della loro corrispondenza con le famiglie erano in massima tutt'altro che ispirati da avversioni per l'impero austro-ungarico. L'idea Jugoslava dell'unione dei serbi, dei croati e degli sloveni risultava bensì essere fede profonda di una minoranza di idealisti, in gran parte emigrati all'estero e in parte minore rimasti nell'interno della monarchia, adonata di Ljubljana del luglio del 18, ma non appariva affatto penetrata e diffusa nella massa jugoslava del bicipite stato danubbiano della quale i prigionieri erano in dubbio esponente. E chi aveva in carico di studiare e seguire questo importante fenomeno per la valutazione della compattezza dell'esercito nemico, concludeva che sarebbe stato prematuro mettere in equazione a nostro vantaggio un principio di disintegrazione dell'armaia di Carlo I sulla base della trionfante idea jugoslava. E questo ha, secondo me, la sua validità. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Una certa antipatia delle popolazioni di razza slava verso i tedeschi e i maggiari trapelava, è vero, da lettere e da discorsi, ma permanevano altresì e spesso prevalevano le rivalità fra serbi, croati e sloveni. Non si dice nulla di nuovo. L'idea jugoslava, intesa nel senso panserbo, era lungi dall'incontrare la simpatia di tutti quegli elementi jugoslavi non serbi che, sebbene decisi a rompere la corregime austriaco dell'anteguerra, erano inclini più a un trialismo all'interno della monarchia tanubiana che alla sostituzione di una grande Serbia. Per moltissimi la patria continuava ad essere l'Austria. Quindi diciamo sostanzialmente che da una parte c'è una parte della popolazione slava che comunque ha interesse a mantenere un legame e un'affezione anche con Vienna, ma dall'altra parte non è che bisogna dire che il fatto di non voler Vienna significa voler Belgrado, quindi diciamo si passerebbe dalla padella nella brace a essere sotto gli austriaci o sotto i maggiari, ma poi passare sotto ai serbi. La progettata costituzione in Italia di una legione formata con codesti elementi jugoslavi, presupposti ostili alla monarchia di Jasburgo, aveva dato occasione ad epistole con dichiarazione di attaccamento alla patria austriaca o molti ottimismi avevano dovuto calmarsi di fronte all'evidenza. Qui parla una serie di stralci di lettere che evitiamo di leggere. Era perciò bien spiegabile che il generalismo italiano opponesse la fredda realtà ai troppo facili entusiasmi anche in questo particolare. Verso la metà di settembre veniva autorevolmente prospettata anche la tesi che una nostra offensiva isolata, appunto perché tanto desiderata dagli alleati franco-britanici, avrebbe potuto impegnare monarmente il generalissimo dello scacchiere francese a darci aiuti potenti e diretti nel caso in cui ci fossimo trovati in crisi per effetto la nostra acquiescenza. Ma era sillogismo evidentemente artificioso e l'artificio non conviene ad argomenti gravi. Nemmeno mancavano tra noi persone eminenti le quali temevano che il nostro atteggiamento di riserva rispetto al momento dell'offensiva avrebbe potuto essere interpretato come un desiderio di assoluta indipendenza e perciò non in armonia col principio del fronte unico. Diaz resistette a coteste molteplici suggestioni e col senso ammirevole di equilibrio obiettò che ragionamenti giusti in teoria potevano manifestarsi errati se riferiti alle nostre precise constatazioni. Non gli pareva gioco consigliabile il procedere ad azione isolata tale che involgesse in certo qual modo la responsabilità del Comando Supremo italiano alleato con la speranza di averne poi aiuti soprattutto perché mancava qualsiasi garanzia che anche con tutta la migliore volontà del mondo il Comando Supremo della fronte francese avrebbe poi avuto la possibilità di inviare truppe in caso di crisi in Italia e che potendolo quei rinforzi non sarebbero giunti in ritardo. Il genere Diaz riferendosi anche a precedenti insistenze che al governo italiano erano pervenute attraverso l'ambasciata di Francia e Roma non escludeva che ragioni politiche potessero prevalere sì da spingere l'esercito italiano a una immediata offensiva senza concorso di alleati ma allora occorreva che il governo lo dichiarasse in modo esplicito e desse ordine in conseguenza. In tal caso Diaz faceva notare occorrere subito in zona di guerra tutta la classe del 1900 con le ripercussioni dannose che gli aveva altre volte prospettate in rapporto con le operazioni della futura primavera. Questa lontana previgenza per la campagna del mio 119 era ancora era allora in perfetta armonia con gli eventi e nei consigli degli alleati la grande offensiva della primavera 19 dalla quale si sperava la fine vittoressa della guerra era sempre tenuta presente in ogni deliberazione. Quindi diciamo che questa cosa del 19 non era esclusiva dell'Italia ma era un discorso generale. Era più che naturale che Diaz sentisse la necessità di non meno male la forza dell'esercito italiano per l'ora in quella prova suprema alla quale l'onore militare e tutti gli interessi morali e politici dell'Italia consigliavano di presentarsi in piena politità di armi. Diaz aveva così inquadrati in termini precisi e decisi le sue argomentazioni e il capo del governo aveva concluso riconoscendo tutta la giustezza. L'onorevole Orlando aggiungeva virgolette in nessun caso e per nessuna ragione assumerei la responsabilità di un'azione militare al di fuori della piena e libera volontà delle autorità militari che né è legalmente e moralmente responsabile. D'altra parte esiste un potente militare, un potere militare interalleato il quale nei nostri riguardi manca di confini sicuri ed occorre assolutamente evitare che si determini l'influenza la quale, mentre non si trova al caso di poter assumere la responsabilità dell'agire, lascia a noi la responsabilità di non agire e finisce la virgolette. Era questo precisamente il pensiero del generalismo italiano. Giova ricordare queste diverse opinioni non per accendere polemico o per mettere in dubbio la buona fede di alcuno, ma semplicemente perché da esse emerge la volontà ferma del genere Diaz che non si lasciò smuovere da suggestioni di nessun genere, da qualsiasi parte venisse e non consentì ad azioni che potessero essere passive per l'esercito italiano, anche perché egli vide chiaramente e sicuramente che il sacrificio nostro sarebbe stato un danno per la Lega Anglo-Latina. Quando gli strateghi da caffè si dilettano nelle ore di siesta a muovere le armate sul piccolo piano di marmo fra la lieve nube delle sigarette, essi non sospettano quale moltitudine immensa di problemi si affolli nella mente di un comandante supremo di eserciti belligeranti e quali minacce convergano d'ogni lato contro la sua forza di volontà. Passare sotto silenzio le suggestioni che tentarono l'animo di Armando Diaz nelle settimane che precedettero Vittorio Veneto e delle quali egli virilmente rionfò, equivarrebbe a togliere dall'alloro che cinge la fronte del capo vittorioso una delle fronde più degne perché sono queste le affermazioni di forza con le quali si piega la sorte. Come conclusione dell'accennato episodio Diaz riaffermava il 16-17 settembre essere suo pensiero immutabile di sviluppare l'offensiva a fondo sulla fronte italiana soltanto se le operazioni in Francia, anziché risolversi in una stabilizzazione della fronte contro le posizioni tedesche nella linea di Indenburg, avessero proceduto oltre decisamente. In tale attesa mantengo vivace contegno aggressivo come dimostrano le operazioni profiguamente compiute in questi giorni e come dimostreranno le azioni parziali di maggior raggio che seguiterò a sviluppare con l'intento di verificare se la diminuita efficienza nemica consigli azioni maggiori. Mi propongo in tal modo di fissare le forze austrieche sulla nostra fronte e mi tengo pronto a passare all'attacco a fondo non appena la situazione in Francia si delinei nel modo sovraindicato. Qualora si produca deciso arresto nella offensiva degli alleati non solo un avviso utile né o conveniente spingere la nostra offensiva a fondo ma riterrei doversi molto seriamente considerare l'eventualità già prospettata anche dalla stampa inglese di un grande attacco austro-teddesco contro l'Italia. Il giorno dopo la compilazione di questa nota, cioè il 18 settembre, il generale Diaz si incontrava col comandante delle forze americane, il generale Pershing. Questi espressi nuovamente il pensiero che un'offensiva italiana avrebbe avuto per gli alleati un grande valore, pur dichiarando di non essere in grado di giudicare della possibilità tecnica di dare offensiva, virgol finisce il virgolettato. Il generale Diaz riaffermò per l'ennesima volta il suo immutabile pensiero rispondendo al Pershing che data la nostra inferiorità numerica rispetto all'esercito austriaco, inferiorità valutata a 10 divisioni, e data la natura del terreno costituito per due terzi di alta montagna, se noi avessimo intrapreso un'offensiva avremmo potuto bensì conseguire dei successi ma puramente locali e con un consumo di forze che avrebbe aggravato la nostra inferiorità numerica. In questa occasione il generalissimo italiano intrattenne il Pershing intorno alla sua vecchia idea circa la convenienza di studiare se si potessero raggiungere in modo rapido e deciso le finalità della guerra, dando all'Austria un colpo tale da metterla assolutamente e definitivamente fuori causa. Non dubito, diceva Elf Diaz, che le autorità americane siano già convinte dell'influenza politica e militare che esercirebbe sull'Austria una decisa sconfitta dei suoi armi. Ora il comando italiano è convinto che una grande offensiva muovente dalla nostra fronte potrebbe essere condotta a buon risultato e cioè potrebbe essere sferrata, sviluppata ed alimentata sino alle ultime conseguenze dall'esercito italiano rinforzato da 20-25 divisioni alleate. Ti pare poco? Risultati decisivi per tutta l'intesa sarebbero così ottenuti con mezzi e sacrifici relativamente limitati. Finisce a figurare tale. Il generale Pershing del resto era da tempo convinto della importanza della fronte italiana che egli però aveva considerata soltanto al punto di vista difensivo. Infatti nel corso del colloquio accennato il generale americano dichiarò che gli si era posto più volte il quesito intorno ai terribili effetti di un successo decisivo ottenuto dagli impari centrali contro l'Italia. Sotto questo aspetto il generale Pershing dichiarava di collocare la battaglia del Piave nello stesso piano della battaglia della Marta. Fra i due eminenti capi si parlò ancora della dislocazione della riserva generale dell'intesa che si progettava di costituire interamente con divisioni americane e della liquida da inviare eventualmente in Italia. Problema di particolare gravità al quale fu già precedentemente accennato e in relazione col fatto, noto anche al Pershing, che a parità di tempi i tedeschi potevano spostare dalle fronte francesi a quella italiana forze doppie di quel che fosse consentito agli alleati o potevano spostare forze pari in metattempo. Prima di poter di por termine al lungo colloquio Diaz espresse la sua convinzione che sarebbe stato opportuno da parte dell'intesa spingere subito sulla fronte occidentale le cose fino al massimo dei sultati conseguibili. I problemi relativi alla fronte italiana avrebbero conquistato tutta la loro importanza appena fosse stato possibile acquisire la certezza che sulla fronte francese una soluzione decisiva potesse ottenersi prima dell'inverno. Una settimana dopo questo colloquio il comandante in capo d'esercito italiano aveva occasione di ripetere nuovamente al capo del governo, virgolette. Come ho sempre affermato l'azione di offensiva costituisce il principale proposito del comando supremo e tutte le predisposizioni sono prese per attuarla non appena si verificano le condizioni più lunghe. Già no, virgolette. Non è da omettere che il governo in quel momento iniziò anche a valutare la possibilità di sostituire Diaz, nel senso che hanno sostituito Catorna un anno prima. Hanno tenuto Diaz un anno, però l'obiettivo non è tanto difendersi, ma è anche contraattaccare. Quindi l'idea di poter valutare un nuovo comandante, visto che Diaz era particolarmente prudente anche troppo, risultava non sempre un'idea congeniale per il governo italiano che invece voleva essere più attivo, anche e soprattutto nei confronti degli alleati. L'esercito era infatti pronto alle supreme audace. Caporetto gli ribolliva ancora nell'animo e il duro scacco inflitto al nemico sul piave era stato considerato soltanto come il principio della liquidazione della secolare partita. Durante l'estate il grave problema di ripianare, i vuoti lasciati nelle file dei combattenti dalle gloriose giornate del giugno, problema che doveva avere la sua risoluzione al di fuori dell'impiego della classe del 1900, tra l'altro 1900 come il mio bisnonno che partecipò, quindi già nel 18 partecipò la parte della classe del 1900, riserbata come si è detto per l'operazione della successiva primavera, quindi non è vero che la classe del 1900 sarebbe stata richiamata nel 19 ma addirittura nel 18. Era stato oggetto di particolari cure meticolose. Il Generalissimo aveva voluto che fossero disciolti alquanti organismi ritenuti non indispensabili, che si facessero riduzioni negli organici dei militari di truppa e degli ufficiali addetti ai servizi logistici, che gran parte degli uomini validi ritenuti in paese per la produzione industriale e per i pubblici servizi fossero sostituiti da uomini delle classi vecchie per essere inviati della linea di battaglia. Di più all'esercito numericamente ripristinato, Dials volle dar un nuovo a tempra per rendere lo strumento adatto alla guerra di movimento dalla quale i lunghi anni della trincea lo avevano di suo fatto. Nell'addestramento individuale volle si portasse incremento agli esercizi fisici che tanto conferiscono all'agilità, allo slancio, al fiducioso uso di tutte le energie del corpo. Nell'addestramento di insieme volle che i reparti prendessero l'abitudine alle lunghe marce, specialmente di notte. Tutto questo fervore di preparazione aveva eccitato l'entusiasmo dei cuori dei soldati, virgolette, generale Diaz siamo pronti, si diceva nei campi. All'apprestamento di offensiva si era accoppiata la salda sistemazione del terreno, nella zona montana si erano andati moltiplicando i nidi di metragliatrici, il montello era stato fittamente solcato da trinceramenti di ogni senso e forato da ricoveri perché le truppe vi potessero sfidare le potenti e numerose artiglierie austriache che occheggiavano su tutto intorno dalle alture oltre il fiume. Nel tratto della pianura si erano restaurati gli argini e anche qui moltiplicate le linee di difesa. Nell'ordine delle provvidenze tattiche organiche si era proceduta la conquista dei punti di appoggio da servire come pilastri per la nuova costruzione strategico-tattica. Lo schieramento delle artiglierie aveva assunto carattere offensivo ciò che aveva richiesto una gran somma di lavoro. Si erano raccolti i mezzi occorrenti per una grande avanzata e in primo luogo quelli successivi per il passaggio di un fiume inguadabile per parte di intere armate, ponti militari, pesanti, passerelle sul galleggianti, barconi, legname e ferramenta per costruzioni occasionali e simili. Inoltre Coan Supremo nella previsione dell'imminente offensiva oltre il Piave aveva costituito un organo centrale incaricato di prodisporre e coordinare quanto necessario per il passaggio del fiume ed assicurare con unità di indirizzo il pronto riattamento dei ponti così rotabili come ferroviari. La storia tesseva la fortuna dell'Italia. Firmato Alberto Baldini. Allora, detto questo, mi sembra che abbiamo avuto uno spaccato, ripeto, seppur all'interno di un discorso propagandistico come può essere appunto questo volume Esercina, tra l'altro come avevo detto ieri, è del 1928, quindi era il decennale della vittoria e quindi aveva anche un suo ruolo molto elogiativo, anche al di là dei possibili meriti, ovviamente aveva Diaz e aveva l'organizzazione militare, ma secondo me è una lettura interessante che ci dà anche uno spaccato di cosa potesse riflettere, di cosa potesse pensare Diaz all'interno di una questione in cui tante sollecitazioni erano rivolte verso un attacco imminente, rapido, possibilmente risolutore e quante invece reticenze erano in quei mesi in capo allo stesso Diaz perché temeva un indebolimento prematuro e quindi anche un'incapacità eventuale di poter difendersi qualora gli austro tedeschi avessero attaccato un'altra volta sulla fronte italiana. Con l'impossibilità di avere adeguate e pronte aiuto a parte alleata, questo è ovviamente l'elemento accessorio a questa sua riflessione. Detto questo, come al solito, vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale giustamente e buon 4 novembre a tutti quanti. Ciao!